Oggi nonostante non siano ancora usciti i risultati ufficiali del Loki in mezzo a quella moltitudine di gente che si è radunata anche venerdì sera in piazza Sintagma durante il discorso di Zipras. L'entusiasmo, l'emozione di quella moltitudine di persone si sta ritrovando adesso in piazza Sintagma dopo che un corteo spontaneo è partito dal quartiere di Exarchia per poi convergere qua, per affermare quel no verso una nuova Europa, quel no che non vuole distruggere l'Unione Europea, non vuole non affermare l'importanza dello spazio europeo ma la vuole costruire su altre basi. Ed è quindi da questo punto e da questa giornata storica che qua a livello trasnazionale riusciremo finalmente a costruire una nuova Europa fatta di diritti, di democrazia e di solidarietà.